Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Quest'oggi parliamo di patinaggio e di velocità in pista lunga, patinaggio sul ghiaccio e do il piacere di ospitare una campionessa olimpica di inseguimento a squadre, una ragazza olandese, Marit Nenstra. Marit, buonasera. Grazie. È un piacere averti ospite e davvero complimenti per la tua carriera, ti seguo e sei davvero una signora campionessa. A Livigno, come mai Marit Nenstra dall'Olanda si trova a Livigno? Quest'anno e anche l'anno scorso mi alleno con la squadra italiana e loro vanno sempre qua e sì, è un piacere allenarmi qua. Ti alleni con la squadra italiana, quindi fai parte della Nazionale Azzurra oppure gareggi sempre per i colori olandesi? Sì, giusto. Due anni fa ero a un punto dove dovevo scegliere una strada di andare con la carriera, che sono arrivato spesso quarto in di frivale e pensavo di fare qualcosa di nuovo per provare a cambiare questa brutta posto. Esatto. E così si sono sposate con un italiano, Matteo Anesi. Certo, ricordiamolo vincitore anche lui di una medaglia di inseguimento squadra alle Olimpiadi di Torino 2006, quindi un nome noto. Quindi hai preso la cittadinanza italiana? No, questo no. Abito ancora in Olanda, però sì, così conosco la squadra e conosco allenatore capo, Mauricio Marchetto. Certo. Che ha vinto tante medaglie con i suoi atleti all'Olimpiadi e ho deciso di provare con lui. Hai deciso di provare ad allenarti con la Nazionale Italiana, scusate lo richiedo, però tu gareggi per l'Olanda. Sì. Sei sempre un orange, un orange nel cuore, certo. Marit, come hai cominciato col patinaggio? In Olanda il patinaggio è un sport molto grande, è il secondo sport dopo calcio. e i miei genitori volevano che imparavano a patinare, anche per andare in iverno, sui laghi, così. Dunque era tipo un parto del, non so le parole in italiano, ma volevano che tutti, anche miei sorelle, imparavano a patinare. Certo. Siamo andati tutti un anno e a me, mia sorella maggiore, ha piaciuto tanto e abbiamo, siamo sempre andati avanti. Lei dopo qualche anni ha smesso, è andato a studiare. Io infatti sono sempre andata avanti, sempre alla squadra più grande, alla Nazionale Junior, e poi alla Nazionale Senior è andata così. La Nazionale Maggiore è un sogno, perché sappiamo benissimo quanto sia famoso il patinaggio in Olanda, anzi, io credevo fosse lo sport principale, invece tu mi hai detto che il calcio ha soppiantato questo record, però credo che tantissimi ragazzini e ragazzine pratichino questo sport, un sogno che per te si è realizzato ed anche nei migliori dei modi ti ha portato a vincere questo titolo di campionessa olimpica nell'inseguimento a squadre. Ci racconti quella giornata di Sochi 2014? Allora, era bellissima ovviamente, che la gara di gara squadra è in due giorni. Il primo giorno era la qualificazione e io non ho garaggiato, che abbiamo un squadro di quattro e le altre tre ragazze non ho garaggiato, però io avevo già un po' paura che il capo non lasciava… Non ti convocasse per la finale. Giusto. Però il secondo giorno c'erano ancora due gare, la semifinale e la finale, e mi ha fatto garaggiare prima la semifinale e io pensavo che forse era lì che ho finito la gara. Però è andata molto bene e abbiamo fatto meglio che le ragazze del primo giorno e mi ha lasciato anche garaggiare la finale. Era proprio un'emozione bellissima che già dopo tre giri abbiamo visto l'altra squadra che inizia a due lati della pista. Dunque dopo tre giri potevamo già vedere le ragazze polacche. Polacche, sì, dunque avevamo cento metri di fantaggio. E poi gli ultimi tre giri solo dovevamo stare in piedi e poi abbiamo fatto e vinto, era bellissima, quasi era il penultimo giorno degli Olimpiadi, dunque finire così era bellissima. Contro la Polonia, dicevi? Sì, il finale contro Polonia. Una squadra forte, soprattutto alla femminile, una signora squadra. che hanno anche vinto il bronzo a Vancouver. A Vancouver. Dove la tieni quella medaglia? Allora, adesso ancora in Olanda, però voglio... Abbiamo fatto un caso in Sagri Penea, Trentino, e vogliamo mettere in un posto le nostre due medaglie, quelle di mio marito e di me, accanto a un posto bello. Assolutamente che meritino, assolutamente questo titolo. Mi accennavi in apertura, sei rimasta un po' delusa da diverse quarti posti. Hai ottenuto già delle medaglie di legno ad altre Olimpiadi. Poi ti sei rifatto in questa, però a livello individuale, insomma, hai ancora un conto aperto con la fortuna, con quello che meriti. Sì, giusto. Il prossimo anno è di nuovo l'Olimpiadi. E sì, questo quarto posto non voglio più e l'anno prossimo proprio voglio andare sul podio. Mi sto allenando bene adesso, dunque sì, penso che posso farlo. Anche l'anno scorso sono arrivato quarto alla fine. Secondo me è anche a 1.500. Dunque sì, è stato un po' difficile, però lo so che sono vicina e posso farlo e credo che l'anno prossimo sarà il momento giusto. Quali sono le donne da battere? Saranno sempre le stesse? C'è qualcuna nuova? Qualcun'altra si è ritirata di recente? Ci sono due americani molto, molto forti e poi altri due olandesi e c'è una ragazza giapponese che prima era solo forte sul 500 e è arrivato anche a 1.000. Infatti ci sono due ragazze giapponesi, penso adesso, che sono andati forti l'anno scorso. Dunque i concurrenti più importanti sono due giapponesi, due americani e due olandesi. Marit, sei una mezza fondista, quindi le tue distanze preferite sono 1.000 e 1.500 e delle due ce n'è una che preferisci maggiormente? Allora 1.500 è più bella, perché la gara è proprio mezza distanza, dunque è un mondo dove i fondisti incontrano gli sprint, dunque è la gara più, si dicono è la gara della regina. Sì, la gara regina, ok. Olanda almeno. Se i 500 metri forse sono i più spettacolari, i 1.500 però sono quelli che delineano l'atleta davvero, del patinaggio. Sì, che fa più male, che devi partire forte. Assolutamente. Però è abbastanza lungo, dunque l'ultimo giro è sempre duro per tutti. Solo l'ultimo o anche gli ultimi due? Se tutto va bene, solo l'ultimo. Beh, ti dico un piccolo aneddoto. Anch'io per qualche anno alternavo short track e pista lunga. i 1.500 non erano alla mia distanza, al terzo rettilineo, vuol dire ad un giro e mezzo io piangevo, per mezzo rettilineo, dalla fatica. E poi ancora lontano. Piangevo, ma veramente era proprio un istinto che avevo dalla fatica, poi lo portavo a termine ma poi non riuscivo a sedermi sulla panchina per un quarto d'ora, si dico no, veramente è uno sforzo muscolare altissimo, veramente pesante. Come ci si allena per uno sforzo del genere? Insomma, vi vediamo, tu oltretutto sei anche una ragazza molto longilina, anche molto magra, con le cosce però abbastanza grosse, ma non è il tuo caso. Quindi, come ti alleni Marit? Ci facciamo tanto bici, soprattutto questi periodi dell'estate, prima estate. e poi andiamo sempre due volte a settimana in palestra, dunque per creare le gambe forti. E in più facciamo tante robe di imitazione che non abbiamo sempre ghiaccio, ovviamente. E facciamo tipo i balzi e le cose specifiche. Specifiche, insomma, acido lattico a go go e tanta forza. Sì, come ieri abbiamo fatto un bel allenamento sulla salita qua vicino, che era sempre tre minuti a tutta in su, e poi in giro di dodici minuti di recupero e poi di nuovo. Dunque tanto acido. Certo, forza, potenza, resistenza, elasticità e soprattutto resistere il più possibile alla fatica, dalla velocità, insomma. Sì, soprattutto per il 1500 è quello importante. C'è diversità tra la mentalità del patinaggio in Olanda rispetto all'Italia? Sì, penso che forse la differenza è che in Olanda sono tantissimi patinatori e è un sport grande. Dunque vuol dire che tutti che sono rimasti a livello alto, a livello senior, sono tutti forti e tutti hanno un grande talento. Dunque, sono anche tanti che forse non hanno voglia di sempre allenare tanto e credono che il talento è abbastanza. Qua in Italia non sono così tanti, dunque tutti sanno che se volevano vincere, se volevano battere, per esempio, gli olandesi, che devono fare di più che gli altri. Dunque tutti hanno voglia di allenarsi tanto. E questo mi è piaciuto, è per quello che sono venuta, che tutti che sono qua, che vogliono fare la roba, vogliono fare più che altri, vogliono fare più fatica che fanno altri. Guadagnarsi il posto in cui sono, beh, questa è una bella cosa. Penso che le strutture siano totalmente diverse, quelle presenti in Olanda rispetto all'Italia. Le piste... Sì, in Olanda abbiamo appena una pista nuova al nord dell'Olanda, a Ereveen. È una delle più belle, penso che anche, sì, le facilità che abbiamo sono bellissime. Quando c'è una gara lì è un stadio pieno. Certo. E sì, a tutti piace correre in Olanda, che sì, è bellissima. Però qua in Italia abbiamo le montagne, che per esempio che siamo qua, possiamo allenarsi in bici molto bene, in Olanda è più difficile questo. Certo, quindi d'estate soprattutto la preparazione è totalmente diversa, questa qua in Italia, molto più varia e divertente, suppongo. Tra l'altro, come hai detto, vivi in Trentino, a Baselga di Pinè, quindi la montagna portata di mano e sarà certamente migliore per te. Ti trovi bene a Baselga? Sì, molto. Paesino piccolo, ma ti hanno accettato a braccia verde. Sì, e io sono cresciuta in un paese ancora più piccolo, dunque per me è già bello che c'è un supermercato. E poi abbiamo il lago e tutti i montagni per allenarsi, sì, è molto bello. E soprattutto c'è anche la pista, dunque in evento possiamo anche allenarsi lì. Fate anche, praticate anche il roller d'estate per allenarvi? Ogni tanto sì, però io non sono così brava sul roller, dunque io non lo faccio così tanto. Anche perché, insomma, è un po' anche pericoloso, se si cade ci si fa male in maniera pesante, magari bisogna rimanere ferme qualche giorno. E visto che io non sono così brava sul roller, forse è meglio di non farlo troppo. Che cosa ti hanno detto le tue compagne, il team olandese, quando hai detto bye bye, io vado in Italia? L'hanno accettato? Se sono un po' arrabbiati? No, che è soprattutto un sport individuale, dunque tutti fanno su scelti. Però per la gara squadra ogni tanto è un po' difficile, che sono ancora parte della squadra. Certo. E sì, è bello allenarsi anche insieme, dunque ho già perso quest'estate un allenamento. E questo ogni tanto fa un po' fatica, che non posso sempre essere lì con le ragazze. Però in luglio andiamo con tutta la squadra italiana in Olanda a allenarsi sul ghiaccio lì. E posso vedere anche la squadra dell'Olanda. Certo. C'è un buon feeling tra italiani ed olandesi? Sì, sì. Penso che il patenaggio è un sport dove tutti sono amichevoli. Certo. Marita, leggo il tuo palmarès, è veramente ricco di risultati. Vedo anche tra le medaglie olimpiche, le medaglie mondiali, anche quelle europee, 25 podi in Coppa del Mondo. Da quanto tempo giri nel circuito mondiale? Da quanti anni sei in Coppa del Mondo? Penso che la mia prima Coppa del Mondo era nel 2007. Però ero giovane e alcuni altri olandesi non volevano andare a Moscao. E per quello poteva correre, dunque non era ancora così forte. Però da lì sono sempre, ogni anno è stato fatto più Coppa. Tu sei classe 1989, dunque hai 28 anni. Giusto. Ti sei già posta a un limite, un punto d'arrivo, oppure finché quelle gambe tengono vai avanti? Volevo fare almeno ancora un anno dopo l'anno olimpico, dunque dopo quest'anno, perché sono stata in una squadra all'inizio della mia carriera, dove erano alcuni già al punto di finire la carriera. e hanno deciso di smettere dopo l'Olimpiadi. Però così tutto l'anno hanno fatto come era l'ultima volta che sono stata a San Moritz, l'ultima volta a Mallorca, l'ultima volta. Dunque era un po' un anno che non mi sembrava che erano così concentrati sull'obiettivo, ma più già la vita dopo. Certo, hai ragione. E io ho deciso di non farlo così e farò almeno un anno ancora dopo questi olimpiari. E poi è vero, se ho ancora voglia, vado avanti, se non voglio più, posso smettere lì. Hai ragione, beh, è una bella prospettiva. L'Olanda è famosa anche per quelle bellissime gare che si fanno sui canali. Innanzitutto si fanno ancora o il clima è cambiato e di ghiaccio sui canali ce n'è ben poco? Sì, ci sono alcune gare, però è quella più famosa, è 200 chilometri sul canale dei laghi da Frisia. L'ultima volta è stata a 97, dunque sì, già 20 anni fa. E tutti sperano che l'anno prossimo sarà la volta buona. Però è sempre difficile che sono tantissime gente che vogliono farlo. Dunque il ghiaccio deve essere molto spesso, molto alto. Però ci sono sempre le gare sui canali minori? Sì, ci sono le gare più corti, così sono anche meno gente e bisogno di meno spessore di ghiaccio. E comunque è più facile che forse solo a un parte da Frisia o da Olanda, è abbastanza freddo e si possono fare le gare. Hai già partecipato ad una di queste? No, no. Ti piacerebbe? Sì, è strano che i miei genitori volevano che, come ho detto, imparavo a patinare per anche andare sui laghi e canali. Però non l'ho mai fatto ancora. Forse quando smetto con le gare internazionali ho più tempo a fare questo. Beh, sicuramente. Hai già pensato che cosa farai dopo la tua vita d'atleta? Non così preciso. Sto studiando scienze della terra. Scienze della terra? Sì. Ma dai. Ma non so ancora esattamente cosa posso fare con questo studio. Dunque puoi scegliere per la laurea magistrale, puoi fare geology o anche hydrology. O biologo. Certo, tutte le branche della... Sì, e non ho ancora deciso cosa... voglio specializzarmi. Beh, complimenti. Riesci a conciliare lo studio e il patinaggio, lo sport? Sì, ma non studio così tanto. Sì, mi piace tanto, è un tipo di hobby, quasi, che ho fatto due anni, non ho studiato e mi mancava tanto. E per quello sono iniziato, però faccio solo un esame alla volta, dunque, forse faccio 20 o 30 punti all'anno. Dunque, mezz'anno o ancora meno. Dunque, non studio così tanto, ma mi piace sempre andare avanti. Beh, complimenti davvero. E la vostra e la tua vita sarà poi in Italia oppure in Olanda? No, in Italia, che abbiamo fatto una casa qua. E mi piace tantissimo. Ho fatto le amiche qua in Italia e mi piace stare qua. Che cosa ti piace di più dell'Italian style, del modo di vivere degli italiani rispetto a quello degli olandesi? Mi piace che anche con gli amici facciamo sempre la cena insieme e così a domenica ci troviamo. E in Olanda è forse più breve che ci vediamo. Andiamo forse dopo cena a fare, che mangiamo più presto. Certo, quasi. In Olanda è forse... Ci si trova molto più frequentemente la convivialità. È più cibo, è buono. Il cibo, certo. E il caffè, ovviamente. Il caffè. Però è anche quello che mi manca un po' in Italia, che il caffè è bevuto sempre veloce. In Olanda siamo abituati a bere il caffè un po' più lungo. Anche perché bevete tazze di caffè, mentre questo nostro espresso piccolino si fa anche più buono. Probabilmente l'espresso del vostro lungo, no? Sì, questo sì. Marit, siamo in conclusione. L'anno prossimo a Pyeongchang, in Corea del Sud, ci saranno i giochi invernali. E quale sarà il tuo obiettivo? L'abbiamo già intuito, eh? Allora, è un medallino finale, è l'obiettivo. E penso al... Sì, al 2005 ho il challenge più grande. E l'oro sarà bellissima. E poi, ovviamente, con la squadra voglio vincere un'altra medaglia. Te l'auguriamo di cuore. L'ultima domanda è questa. Hai un idolo sportivo? No. Scusa. No, figurati. Bene. Niente, siamo in conclusione. Mi ha spiazzato. Ti ringrazio tanto Marit, grazie, l'Italia ti farà per te, è stato un onore, grazie ancora. Grazie a te. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione, vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie a tutti.